Ben tornati in studio nuovi vincoli imposti a Tarquinia per via del rischio idrogeologico del fiume Marta. Il sindaco Mauro Mazzola incontrerà proprio nella città etrusca mercoledì 29 maggio l'assessore regionale alle infrastrutture, alle politiche abitative e all'ambiente Fabio Rifrigeri. Il tema della riunione a cui parteciperà anche il presidente della Commissione Ambiente e Lavori Pubblici Enrico Panuzzi sarà l'aggiornamento del PAI, piano assetto idrogeologico del fiume Marta. Il primo cittadino farà presente le molte perplessità dell'amministrazione comunale riguardanti i nuovi vincoli imposti. È quanto mai indispensabile un chiarimento, afferma il sindaco Mazzola. L'assessore Rifrigeri, con senso di responsabilità, ha accettato il nostro invito per conoscere nel dettaglio la situazione e ha dato la sua disponibilità nell'affrontare il problema. Da parte nostra c'è la massima fermezza nel portare avanti le istanze del tessuto imprenditoriale tarquinese. Crediamo che occorra ripensare quanto previsto seguendo due strade. Prosegue il primo cittadino. Da un lato garantire la sicurezza del territorio, dall'altro tutelare l'economia locale, non ponendo lacci troppo stretti che potrebbero soffocare le aziende locali, le quali già affrontano una crisi economica molto grave. Il Consiglio Comunale di Tolfo ha approvato ieri una convenzione con la Banca di Credito Cooperativo di Capranica volta al sossegno dell'imprenditoria locale. Con tale convenzione la BCC si impegna a concedere mutui chirografari e ad aprire credito in conto corrente per il finanziamento di nuove iniziative imprenditoriali di piccole imprese già attive ed operanti sul territorio comunale. In particolare gli interventi sono destinati allo start-up di nuove aziende con titolari che abbiano un'età massima di 40 anni e piccole attività già presenti con un fatturato massimo di 300.000 euro. L'Istituto metterà a disposizione un plafond di un milione di euro con tassi agevolati. Il Comune di Tolfo interverrà certificando che l'impresa svolgerà le sue attività sul territorio comunale. Le richieste dovranno essere presentate presso la filiale della BCC di Tolfo per il tramite del Comune. Un'iniziativa volta a stimolare l'economia e a sostenere le imprese già esistenti in questo difficile periodo, ha affermato il primo cittadino Luigi Landi, riassumendo gli auspici di tutta l'Assemblea cittadina. Pronti allo stato di agitazione, il sindaco della CGL scende in campo per difendere il 43 lavoratore di Santa Marinella Servizi che dopo aver incontrato la scorsa settimana il sindaco Bacheca, ricevendo delle rassicurazioni sul loro futuro, evidentemente non si sono accontentati delle promesse che al momento non sono state mantenute. I lavoratori della Santa Marinella non ne possono più di bugie e di prese in giro, dice Marco Feoli della Filcamps CGL. È un anno che gli impegni presi vengono rimandati di settimana in settimana. Siamo pronti a scioperare, a lasciare deserti gli uffici, a bloccare le manutenzioni del verde pubblico, il cimitero comunale e tutti i servizi al cittadino. Bacheca e l'assessore Bianchi la facciano finita di prenderci in giro per fare bella figura e salvare la faccia. La faccia si salva solo facendo bene e per tempo le cose. La relazione da spedire all'autorità garante per Feoli è ancora in cantiere. Prima doveva essere pronta per fine marzo, poi per metà aprile, poi per fine aprile, continua il sindacalista. Dopo la manifestazione a protesta dei dipendenti, il sindaco aveva promesso, ribadendolo anche a mezzo tv, che venerdì scorso avrebbe spedito tutto, cosa che non è stata fatta. Sia Bacheca che Bianchi hanno dato la colpa ad un piccolo intoppo burocratico facilmente bypassabile e avevano promesso che per lunedì avrebbero predisposto quanto ormai questo famoso invio. Nel frattempo hanno chiesto di nuovo la collaborazione della dottoressa Monica Romitelli e dottor Fabio Rocchi, dipendenti della municipalizzata, per riuscire a completare il tutto per lunedì mattina. Ma anche questo appuntamento è stato mancato dall'assessore Bianchi e dall'esperto comunale Santo Fabiano, a ridosso delle lezioni e rimandando l'impegno preso di giorno in giorno. È stato un successo la decima edizione della Sagra della Sparago Verde che si è svolta a Montalto tra il 17 e il 19 maggio scorsi. Oltre 7 mila persone hanno preso parte alle tre giorni di degustazione, mostre, musiche e spettacolo che hanno trasmesso un clima di festa in tutto il paese, mettendo in evidenza la storia, la tradizione e la cultura del territorio. Grazie alle numerose iniziative promosse dall'Associazione Pro Pesce Romana, patrocinate dall'Assessorato alla Cultura del Comune di Montalto e alla Camera di Commercio di Vitermi, la Sagra ha visto la presenza di molti turisti. Centinaia di visitatori hanno potuto degustare i piatti tipici a base di asparago, il primo ortaggio di qualità riconosciuto in Italia da parte di un organismo internazionale. Dopo un anno di lavoro vede alla luce il volume Santa Severa tra leggenda e storia. Ma ora diamo spazio a un piccolo break di pubblicità, seguire la nostra pagina dello spazio.